Un programma molto ricco perché la Settimana della Cultura, che è un'iniziativa nazionale voluta dal Ministero dei Beni Culturali, va dal 14 al 22 di aprile. Noi, essendo molto ricco il carnet delle possibilità culturali che potevamo donare alla città, ci siamo allungati e la Settimana della Cultura è diventata una primavera di cultura, quindi le iniziative inizieranno nel 14 e si protrarranno per tutto il mese di aprile. Le iniziative sono di diverso genere, iniziative musicali, teatrali, presentazione di libri, visite guidate, visite ai monumenti della città. La cosa importante è che saranno coinvolti tutti i monumenti importanti della città di Manto, sia tutti quelli comunali, quindi il Teatro Bibiena, il Palazzo Tè, la Teresiana, il Palazzo di San Sebastiano, la Biblioteca Baratta. E questo sta a significare come cultura, così come vado ripetendo da quando mi sono insediato, è sinonimo di valorizzazione del patrimonio. Il touring è presente a Manto a domenica 15 con una nuova rivista, ma soprattutto permetterà visite. La visita più significativa che mi preme sottolineare è la visita alla Torre dell'Orologio, che è una possibilità che avviene grazie all'impegno del Comune di Manto, visto che abbiamo ripristinato la fruibilità e la visitabilità di questo luogo unico e meraviglioso. Manto a Felix, una produzione proprio del Comune di libri. Certo, è stata una idea mia, tra l'altro, quella di voler dar vita a una piccola collana, Manto a Felix, affidata per il momento, per questi primi numeri, al professore Rodolfo Signorini, che è una collana che richiederà piccoli volumetti, piccoli libri, che illustreranno, con un linguaggio adatto a tutti, alcune bellezze della nostra città.